Sono ben 77 i danni che lo zucchero può causare alla salute. Vediamone alcuni. Troppo zucchero produce effetti negativi sulla nostra forma fisica, che quando proprio in forma non è, può esporci al rischio diabete. E allora, ciao ciao agli zuccheri! Lo zucchero favorisce fattori di rischio per le malattie cardiache, indipendentemente dal tuo peso corporeo. Consumare grandi quantità di zucchero può minare la salute del nostro cervello, che ne ha bisogno per funzionare, ma che è anche sensibile alle quantità. Lo zucchero in eccesso può danneggiare la memoria e la capacità d'apprendimento ed è un fattore di rischio per depressione e demenza. Sai che saccarosio, fruttosio e sciroppi vari sono presenti nel 75% dei cibi confezionati? L'OMS ci dice che meno del 10% delle calorie assunte quotidianamente devono derivare da questo tipo di zuccheri. Per ricaricarci di energia, la migliore e più duratura, scegliamo gli zuccheri complessi, ossia cereali, preferibilmente integrali e loro derivati, sempre nella corretta quantità. E dunque, bandiamo il quadratino di cioccolato? Certo che no! Ogni tanto fa persino bene! Ricorda però un quadratino, non una tavoletta!